Un'ultima chance per giocarsi un posto nei playoff. Il Nardò rimane aggrappato al treno degli spareggi del girone H di Serie D e lo fa con una vittoria contro il Molfetta. Al Giovanni Polo II i Granata battono 4-2 i Biancorossi e salgono a meno 3 dal quinto posto, adesso occupato dal Lavello e dal Bitonto. Danucci non fa turnover e conferma il miglior 11. Bartoli, senza strambelli, varia lo scacchiere titolare. Il Nardò fa valere subito il fattore campo e passa in vantaggio già al dodicesimo. La prima firma dei Salentini è quella di Eric Tornros che porta avanti i padroni di casa grazie all'ottimo assist di Cancelli. Il raddoppio arriva a ridosso dell'intervallo. Caputo trova il pertugio per servire Gallo che mette in rete il 2-0 e sembra già mettere in ghiaccio il match. Nella ripresa dopo soli tre minuti arriva anche il terzo gol del Nardò. Palla invitante di potenza per Tornros che arrotonda il risultato e permette i Granata di giocare sul velluto. Passano altri 180 secondi e i Salentini calano il poker. Destro vincente di potenza e Molfetta che praticamente si arrende nelle primissime battute del secondo tempo. O almeno così sembra perché i biancorossi reagiscono alla batosta maturata in poco più di 50 minuti. Al 54esimo gli ospiti provano a rimettersi in partita con il gol di Ventura che sembra solo il gol della bandiera finché al 57esimo non arriva anche la seconda rete firmata da Massarelli. Il Molfetta ha mezz'ora per architettare la rimonta che adesso sembra più fattibile ma l'efficacia vista dopo il 4-0 svanisce nel momento decisivo. Il Nardò conduce in porto il match e conquista un successo prezioso per rimanere nella scia dei playoff. Adesso distanti tre punti con tre giornate ancora da giocare. Tutto è ancora da decidere soprattutto perché davanti corrono in pochi.